Mi hanno rotto le balle questi comunisti, perché Miniti è un ex comunista, sta facendo bene il ministro degli interni, ma è un ex comunista, un ex comunista che deve spiegare che la sicurezza è di sinistra. Avete rotto le palle. Questo paese è impregnato di cultura di sinistra, per cui la sinistra ha sempre spiegato che dobbiamo capire chi ruba la mela, che dobbiamo capire gli immigrati, che dobbiamo fare l'accoglienza per tutti, che le carci devono essere educative, che bisogna scontare le pene. Chi le ha detto queste cose? La destra o la sinistra? Adesso non ci rompete le balle dicendo che la sicurezza è una questione di sinistra. Diciamo un'altra cosa, Miniti, sei diventato di destra, non la sicurezza è una roba di sinistra che ci fa la predicozza, non è né di destra né di sinistra, ma che sta a dire? Per anni voi comunisti ci avete spiegato questa roba qua, per anni ci avete raccontato che la giustizia, l'ordine, l'idea della tolleranza zero del sindaco di New York era una roba da fascisti. Voi ce l'avete detto, e adesso che ne paghiamo il prezzo ci fate la romanzina, caro Miniti, caro ex compagno Miniti, ci spiegate che è di sinistra la sicurezza? Eh no, non ce la prendete per i fondelli. Benissimo quello che stai facendo, Miniti, benissimo, ma non ce la raccontate adesso. Cioè noi dobbiamo anche pensare, cavolo, cavolo, in effetti ha ragione Miniti, l'ex comunista, la giustizia e la sicurezza sono una cosa di sinistra. Mi viene una rabbia. Così qua.